Ore 10 la storia entra in classe. Succede nell'aula magna del liceo all'estimate di Verona, nell'incontro con due uomini, Tirindelli e San Marco, della scorta di Falcone, il giudice ucciso il 23 maggio 1992, scampati all'attentato perché non erano in turno in quel momento. Io spero di poter trasmettere le emozioni che ho vissuto io, il rapporto che avevamo con questo grande magistrato e un senso di rispetto, di educazione, di stima, di legalità, di piacere della vita. Sicuramente è un segnale, un messaggio di crescita che i ragazzi possono apprendere, soprattutto di lealtà, soprattutto di legalità. Ma io desidero che i giovani sappiano che tipo di uomo era Giovanni Falcone, perché ha lavorato assiduamente per cercare di darci una nuova società, un nuovo avvenire, soprattutto ai ragazzi, perché aveva capito la strada giusta per bloccare il mostro mafioso o le mafie che ci sono in Italia e anche all'estero. Presa in aula le più alte autorità cittadine, il Vescovo e il Sindaco, che hanno ricordato il valore della testimonianza di amore per la giustizia di Falcone e Borsellino e il fatto che adesso le infiltrazioni mafiose sono arrivate fino ai territori veronesi. L'incontro è stato promosso da Usacli Verona. L'obiettivo di Usacli di Verona, ormai da due o tre anni, è quello di portare a conoscenza le persone, soprattutto di quello che sta succedendo a livello sia nazionale che internazionale. L'obiettivo è quello di portare a conoscenza perché le persone siano in grado di capire quello che accade o, soprattutto in questo caso, quello che la storia ha fatto per far sì che oggi siamo così. È un incontro straordinario perché consente ai ragazzi di toccare con mano un protagonista della storia, un testimone oculare e la storia si fa con questi personaggi.